a bella raga qua è savix vi parla bentornati in questo nuovo video stranissimo e benvenuto se sei nuovo sul canale allora ragazzi come ben sapete gta un pochettino mi ha stufato anche col fattore che lavoro e non ho tempo da starci dietro per fare il tipo di contenuto che facevo prima sapete portavo glitch e pochi gameplay e per fare i glitch bisogna starci dietro provarli testarli e sti cazzi non ce l'ho il tempo lavorando ma mi diverto giocando quindi savix ha fatto che cazzo savix ha fatto un upgrade strano oggi decide di giocare a fortnite col suo account xavix andiamo a spara bau Eeeh... E' una merda! E' una merda! Allora che facciamo? Andiamo a cercare un'altra inutazione? E' una merda! Oh! Oh! Oh, io lascio le gambe! Oh! 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 io la fanno così, arriva e mi sciolgono perchè fai sempre lì il gioco dura poco cosa dire adesso sono diventato proprio il legale conquista diventato fortissima seppuro seppuro serve seppuro serve eh 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 to' chi ce l'hai eh 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 tu canto bravo lì tu dove sei guarda 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 perché C'è una metodologia Andate a vedere come si fa Potrebbe esservi di aiuto In effetti Andate a guardare La metodologia di gioco Effettivamente magari non arrivate primi Ma arrivate tra gli ultimi E bene o male che sto capendo che ogni season C'ha il sud e il basso E bisogna imparare a usare il sud e il basso Da più a più a un Dove? Non so cosa arriva Sto arrivando? Preparatevi E' proprio E' proprio Mannaggia 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 Sù Di spioce Oh Oh Schiatto Eh Speriamo saltino a scivolare Lì E E Ma Fratelli Fratelli Ammafacqua fratelli Ammafacqua Fratelli Ammafacqua Fratelli Mamma 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 mia Che sta facendo Un Portella Uh Aspetta aspetta come si fa animazione Dove cazzo è? E sopra Eccolo Uh 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 Ciccio bello Colo Bello voglio Belle quelle Belle quelle Belle queste qua Non so se togliermi la vita o no Perchè queste qua ti possono imparare le chiappette Vabbè intanto siamo verso la fine Eccolo Uaaaa Ce ne sarà Ce ne sarà Ce ne sarà Allora Oh 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 Chi fa? Chi fa? Chi fa? Chi fa? Chi fa? Dov'è? Questo mi ha fatto già un po' di vita eh Qu health Dov'è la fiesta dos Non so se togliermi Dissà Mamma mio Ischen allenamento Ehh Ehh Incredibile ma vero ragazzi Xamix Niente ragazzi Se mi piace questa serie Pizzate se mi gioca O per caso La prossima Squadabam Iscriviti al canale